Nel giovedì santo. 8 aprile 1971. Figlie mie dilette, non vi voglio lasciar partire senza la mia particolare benedizione. Mi avete tenuto compagnia con la mia mamma in questo giorno tanto grande della mia vita e nella storia della Chiesa. In questo giorno che voi chiamate santo, io istituì la Santissima Eucaristia, che mi permetteva di restare sempre in mezzo a voi come vittima e come cibo. In quel giorno ebbe anche inizio il sacerdozio, poiché, proprio nell'ultima cena, dopo aver fatto ai miei apostoli dono del mio amore infinito, diedi ad essi il compito di esercitare quel ministero che mi avrebbe perpetuato nei secoli. Sia dunque nei vostri cuori un senso profondo di riconoscenza e di gioia, e non dimenticate di pregare in questo giorno e in questa notte per i vostri sacerdoti. Sì, perché si santifichino e possano santificare. Il mio volto luminoso, che vi ho lasciato come segno della mia presenza, vi dica tutta la gratitudine che nutro per coloro che partecipano alle mie gioie e ai miei dolori. Vi benedico, figlie, e vi aiuto a santificarvi.